Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata, cioè loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci, quindi non riguarda lo stupro, è una cosa che va al di là lo stupro. Ciao, sono Valerio Novara. Per capire chi sia questa donna dobbiamo tornare per un attimo alla notte del 30 settembre del 75, intorno alle 22.50 di sera. Una volante dei carabinieri sente arrivare questo messaggio. Cigno, cigno, c'è un gatto che miagola all'interno di una Fiat 127 in via Pola, a Roma. La volante si dirige sul posto e trovano questa Fiat 127 e un metronotte ha sentito dei rumori provenire dal bagagliaio. Gli agenti aprono il bagagliaio e trovano due donne martoriate, una ancora viva, Donatella Colasanti, che è la persona che avete sentito parlare nell'intervista, mentre accanto a lei c'è Rosaria Lopez, che è ormai morta. E quindi gli agenti trovano solo il cadavere di questa ragazza. Il volto di Donatella è tumefatto, ma è emblematica la scena quando esce dal bagagliaio dell'auto, fotografata da un reporter che, quando aveva intercettato il messaggio dei carabinieri, si era subito diretto sul posto ed ha fotografato il momento in cui resuscita letteralmente questa ragazza dal bagagliaio dell'auto per una foto che è diventata un'icona della cronaca nera italiana degli anni 70. È uno dei tratti sconvolgenti della Scuola Cattolica, film che potete trovare su Netflix, e che parla del massacro del Circeo avvenuto nel 1975. Faccio una premessa, alcuni conoscono o hanno sentito nominare il mostro del Circeo, questa è la storia del mostro del Circeo, sono la stessa cosa il massacro del Circeo e il mostro del Circeo, perché abbiamo visto alcune interviste e alcune deposizioni della persona di uno dei tre ragazzi quando erano giovani che aveva ucciso questa ragazza dopo averla stuprata e torturata e che è diventato famoso come il mostro del Circeo, ma questa storia è la stessa identica cosa e narrano del massacro del Circeo, avvenuto nel 1975. Le due ragazze, una 17 e una 19 anni, nella Roma degli anni 70, conoscono dei ragazzi della Roma bene, se vogliamo, perché poi il titolo di questo film prende il nome da una scuola cattolica per soli maschi che esisteva a Roma e il film prende spunto dall'opera letteraria che ha vinto anche il premio strega di Albinati e nel quale l'autore ripercorre proprio la sua infanzia all'interno di questa scuola cattolica che insomma c'entra molto col delitto che poi si verifica in questa villa al Circeo e c'è da dire che il film come il libro narrano solo nell'ultima parte il delitto quindi sono solo gli ultimi 20 minuti che ti portano all'interno del massacro che c'è stato all'interno di questa villa ma che esplora fin dall'inizio e ti fa capire da dove arrivano i tre aguzzini che poi compiranno insomma l'efferato omicidio e nel quale per fortuna insomma Donatella Colasanti si salverà e devo dire che il film è stato fatto benissimo riprendendo anche alcune scene pare pare di come si erano verificate effettivamente nella realtà l'accusa dello scrittore e anche del regista che riesce a trasmettere benissimo quella che è l'origine quindi il contesto di come crescono questi ragazzi della Roma bene in questo quartiere, il quartiere Trieste dove c'è la San Leone Magno che è questa scuola cattolica per soli maschi ripercorre a ritroso la sua infanzia per mostrarci quella che è insomma l'educazione maschilista e patriarcale che deriva da questa scuola e che condizionerà molto gli aguzzini fino a portarli al massacro che si verificherà il 30 settembre altra cosa interessante è che il film parte da sei mesi prima e ci porta piano piano ad avvicinarci al momento c'è sempre la sensazione, io non ricordavo la storia, la sono andata a leggere dopo ma c'è sempre la sensazione che debba succedere qualcosa di brutto per esempio una delle scene che mi sono rimaste più impressi è che questi ragazzi avevano comunque famiglie benestanti e già a scuola si erano verificati episodi di bullismo uno di loro per esempio viene insomma beccato il padre viene richiamato dal preside della scuola per fargli sapere che il figlio era stato tra i bulli che avevano malmenato un altro compagno di scuola e una volta a casa mi è rimasta impressa la scena perché sappiamo tutti insomma che era un'epoca in cui si davano anche insomma le botte a cingliate i genitori impartivano l'educazione in un certo modo e si può essere d'accordo o meno sul metodo ma sono le frasi che dice il padre di questo ragazzo tra l'altro interpretato da Riccardo Scamarcio che dice mi hai fatto fare una figura di merda continua a portare l'attenzione mentre lo malmena con la cinghia continua a portare l'attenzione su di sé e quindi sul suo ego senza far capire al figlio il perché era sbagliato fare il bullo e mettere in mezzo un altro compagno di classe e bullizzarlo e malmenarlo non gli hai fatto capire perché aveva sbagliato ma te la sei portata su di te dicendo mi hai fatto fare una figura di merda io sono una persona importante mi conoscono tutti a quella scuola gli do un sacco di sordi perché poi il padre lo specifica anche dopo insomma davanti al preside dice le donazioni che abbiamo fatto per non far mancare la sua autorevolezza la sua rispettabilità davanti alla scuola ma sono ragazzi che prima di tutto hanno i genitori poco presenti e che quindi vengono insomma educati più che altro dalla scuola una scuola cattolica una scuola in cui vengono delle regole è un film che affronta dei temi molto importanti per l'epoca quali ad esempio il machismo e questa cultura dello stupro che viene mano a mano sempre più in voga soprattutto negli anni 70 ma anche negli anni 80 sono ragazzi cresciuti con una cultura quasi cameratisca nella scuola ci sono spesso abusi violenze e anche lo scrittore del libro sottolinea spesso e ci si mette in prima persona anche se non è stato poi lui insomma l'autore del massacro e dell'omicidio di quella ragazza ci si mette in prima persona perché dice siamo tutti vittime di una società che ci chiedeva di essere virili di essere maschi di sopraffare per non essere sopraffatti e quando molti mi chiedono perché quei ragazzi hanno fatto quello che hanno fatto in quella maledetta sera del 29 settembre in quella cazzo di villa del Circeo rispondo che è il contesto da dove venivano c'è una scena durante il film in cui i ragazzi sono a scuola e c'è questo professore il professor Golgota che ha tutto un programma insomma per una scuola cattolica che fa vedere ai ragazzi un quadro, un dipinto in cui c'era Gesù malmenato da sei uomini e c'è questa riflessione che tra l'altro leggevo che ha fatto censurare il film ai minori di prima 14 poi 18 anni e il regista è rimasto anche abbastanza sorpreso di questa scelta perché all'interno di questa scena viene spiegato che insomma il professore chiede chi è la vittima in questo quadro che vedete e la maggior parte insomma risponde Gesù perché viene malmenato e in realtà lui spiega che le vittime sono anche i suoi carnefici i sei uomini che gli sono intorno e che lo frustano perché è lo stesso uomo e diventa vittima di se stesso e della società oltre a far diventare vittima la persona che sta malmenando e c'è il parallelismo con il bullismo a scuola anche perché poi questi ragazzi riporteranno la stessa scena nei confronti di un loro compagno di classe che aveva fatto la spia e aveva detto insomma chi erano stati coloro che avevano bullizzato il ragazzo l'altro ragazzo all'inizio del film Nascere maschio è una malattia incurabile scrive sia l'autore del libro che poi questa frase viene riportata anche nel film e che si può comprendere solo se ci si immedesima nella critica che sia l'autore del libro che il regista del film fanno ad una società di stampo patriarcale e maschilista nella quale l'uomo è sia vittima che carnefice delle proprie azioni una delle scene più riuscite del film è sicuramente quando le due ragazze le due poi insomma vittime del massacro del cerceo sono nella stessa Fiat 127 tra l'altro poi nella quale si ritroveranno si ritroverà Donatella alla fine del film e quando conoscono questo ragazzo insomma questo ragazzo che frequentava appunto la scuola cattolica e salgono in macchina con lui e ascoltano spensierate la canzone la collina dei ciliegi di Lucio Battisti fumando una sigaretta finestrino ed è l'ultimo momento insomma di spensieratezza e tranquillità prima di affrontare insomma la notte peggiore della loro vita Benedetta Porcaroli interpreta Donatella Colasanti ho apprezzato tantissimo la sua interpretazione anche perché ci sono anche delle inquadrature uguali a quelle insomma che poi sono apparse sui giornali e in televisione anche l'attore che interpreta il cosiddetto mostro del cerceo Luca Vergoni credo abbia fatto una parte davvero molto importante con una mimica facciale da pazzo e penso che ne sentiremo parlare di questo attore perché veramente è stato davvero bravo e chissà che questo film non lo ritroveremo ai prossimi David di Donatello con alcune candidature perché è un film davvero che ti mette a dura prova e che ti disturba è un film disturbante l'ho definito quando insomma è finito e consiglio di vederlo a tutti anche perché tratta di uno spaccato della società italiana in particolare della società maschilista e patriarcale romana degli anni 70 fatemi sapere se l'avete visto e se vi è piaciuto nei commenti qui sotto io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale youtube di mettere mi piace alla nostra pagina facebook ciac e azione di seguirci su instagram al prossimo video